All'indomani della preoccupazione espressa dal consigliere comunale di Amiamocava, Massimiliano Di Matteo, sulle modalità di assegnazione degli stalli delle bancarelle lungo il borgo, in vista della festa padronale della Madonna dell'Ulmo, da Palazzo di Città arrivano alcune precisazioni. In particolar modo, l'assessore alle attività produttive, Enrico Bastolla, ha spiegato i motivi per i quali quest'anno non è stato emanato alcun bando come avvenuto in passato. Tra questi, fanno sapere dall'assessorato, le prescrizioni in materia di manifestazione a carattere religioso, storico e culturale previste dall'articolo 9 del Regolamento del Centro Storico e che prevedevano l'emanazione di un bando del SUAP entro il mese di aprile, proprio per l'allocazione delle bancarelle, sono state ampiamente superate dal Regolamento che disciplina il commercio sulle aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale Metelliano lo scorso dicembre. Recependo quindi le direttive impartite dalle normative regionali, per il nuovo regolamento il bando è superato dal momento che viene dato mandato all'Aggiunta Comunale di deliberare e di istituire le aree destinate alle fiere. Secondo quando sostiene Bastolla, inoltre, il SUAP sarebbe impossibilitato ad emettere un nuovo bando dal momento che il territorio cavese non è più lo stesso del 2011 per applicare il medesimo regolamento. Per questo motivo, quest'anno, il SUAP ha messo a partecipare tutti gli operatori commerciali, in possesso di autorizzazione al commercio ambulante su aree pubbliche sia di tipo A che di tipo B, il cui termine di presentazione scadeva il 10 agosto, ad esclusione di quelle pervenute fuori termine. Ora, entro il 30 agosto, da Palazzo di Città sarà emessa la graduatoria relativa alla concessione del posteggio ai partecipanti che si sono collegati in posizione utile. Successivamente, il comando di polizia locale provvederà alla segnatura dei posteggi e dirigerà le operazioni di sistemazione degli operatori assegnati. A disciplinare il tutto, sarà un'apposita delibera di giunta, che prenderà atto di tutte le situazioni finora non regolamentate. Come i cavesi sicuramente ricorderanno, l'organizzazione della festa della Madonna dell'Olmo ed in particolar modo la gestione delle bancarelle, già negli anni scorsi è stato il banco di prova, talvolta nefasto, per alcuni degli assessori che si sono succeduti nelle passate amministrazioni.